Ok ragazzi, ho iniziato X Factor ed è abbastanza importante recensire un po', perché comunque ci sono state delle cose interessanti, mettiamola così. La prima cosa da cui vorrei partire è, appunto, Blue Felix è la forza di essere se stessi, così si chiama il video su YouTube nel canale di X Factor. Blue Felix è un ragazzo talentosissimo, ovviamente ha ricevuto i quattro sì, è un ragazzo che ha portato un inedito in inglese ed è difficilissimo, ha un'espressività vocale da invidiare. E quello che io non capisco, quello che proprio mi ha dato fastidio, è perché far partire questo video differentemente dagli altri, con una sorta di vlog dove lui racconta un po' la sua vita, i suoi disagi, il fatto che gli piace vestirsi da donna e che è dovuto scappare a Londra perché comunque a casa, a Livorno, era dura vivere. Ora, è chiaro, la piccola realtà è pesante per una persona non solo omosessuale, ma che comunque percepisce dentro di sé una femminilità grande, quindi gli piace vestirsi da ragazza, si sente una ragazza dentro e non solo non c'è niente di male, è una cosa artisticamente affascinante. Avere il coraggio e la forza di lasciarsi andare, così in una parte della propria interiorità che comunque si discosta dall'orientamento sessuale di genere che il nostro corpo ci ha dato. Quindi io, venendo da un mondo teatrale, comunque questa tipologia di espressione a me affascina, non è che non mi affascina. Il discorso è, parliamo sempre di normalità dell'essere omosessuali, trans, eterosessuali, la stessa cosa, e io sono d'accordo. Ma allora perché questo video è diverso dagli altri? Perché questo video parla, racconta la storia di questo ragazzo? Ma io credo che questo ragazzo la sua storia l'abbia raccontata cantando, come tutti gli altri, cioè qui si poteva ritagliare anche la parte in cui si presentava, bastava mettere la musica per far capire chi è e da dove viene. Perché ha un talento veramente pazzesco, un livello interpretativo di altissimo livello. E allora, perché si è dovuto costruire uno storytelling su questo ragazzo? Perché si è dovuto mettere un video di lui che si veste da ragazza e poi è andato sul palco? Non è accaduto agli altri ragazzi questa cosa? Perché a lui sì, agli altri no? Perché? Perché il mondo omosessuale, noi vogliamo che sia normale, ma in verità, ai media non conviene. Ai media conviene e fa piacere il fatto che un ragazzo omosessuale venga strumentalizzato. La storia di questo ragazzo è stata strumentalizzata per fare click, per generare audience, fino a che noi trattiamo in maniera speciale, noi stiamo trattando in maniera diversa le persone come lui. Questo è il discorso, ovvero una persona che deve essere libera di vestirsi da donna e la cosa deve essere normale. Se noi vogliamo fare un discorso di uguaglianza, altrimenti noi non lo facciamo il discorso di uguaglianza, diciamo che è una cosa particolare, che è una cosa diversa, e quindi questo ragazzo viene, si traveste da donna, e allora gli facciamo il video. Perché? Perché è una cosa diversa. Non è una cosa uguale al resto. E' questo che non riusciamo a capire in Italia. Cioè che i veri... Chi discrimina non è l'ignorante che dice Ah, frogio di merda queste cazzate. Perché l'ignorante che dice queste frasi, in verità, non lo sta discriminando, perché si sta... si sta... raccontando da sé. Nel momento in cui tu commetti un atto di ignoranza, il tuo parere vale zero. Quindi di conseguenza, il vero discriminatore, non è l'ignorante che ti attacca, che ti fa soffrire, la persona di provincia, ma è bensì chi ti tratta in maniera diversa e ti porta in televisione, come se tu fossi il fiore all'occhiello, per far vedere che è tutto normale, ma in verità, trattandoti in maniera diversa. Questo ragazzo qua, a me non me ne frega niente di come si veste, di con chi va a letto e di come la pensa, perché se io devo seguirlo per la sua musica, io ho sentito un grande talento, una linea melodica della Madonna e quello mi interessa. Allora perché è stato così necessario raccontare la storia? Basta fare i finti moralisti e poi siamo i primi a discriminare. Vogliamo far sì che il mondo omosessuale sia normale, sia libero? E allora trattiamoli come persone normali, non con la compassione. Perché c'è tanta gente che ha sofferto la discriminazione, anche non essendo omosessuale, oppure essendolo ma tenendoselo dentro sé. C'è tanta gente che soffre dentro per mille e mille ragioni. Perché non facciamo questa cosa per ognuno di loro? E lo facciamo solo con le persone omosessuali? Perché siamo un paese razzista e la televisione lo sa e ci marcia. E allora... E allora... E allora... Grazie a tutti